Brutta notizia per i fedeli fan di Temptation Island. A poche puntate dall'inizio della nuova stagione sarà costretto a fermarsi. I palinsesti televisivi spesso subiscono dei cambiamenti a causa di subentri o cambio di rotte. L'estate per Mediaset trova la sua sfumatura frizzante in Temptation Island. Il reality infatti dei sentimenti che catalizza l'attenzione di milioni di telespettatori. Ma non si può non prendere in considerazione anche il mondo delle sop, in cui quelle tour che ormai la fanno da padrona. E così Canale 5 ha annunciato una rivoluzione nella sua programmazione per il mese di luglio, portando cambiamenti sia nel daytime che nella fascia in prima serata. Tra le novità più attese spicca l'arrivo di The Family. Per l'appunto una nuova sop-opera turca che promette di catturare l'attenzione del pubblico italiano nel primo pomeriggio, cercando di replicare il successo già ottenuto da Endless Love. Cosa ne sarà allora di Temptation Island? Temptation Island si ferma. Ecco quando e perché. La prima serata vedrà invece la conclusione di uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell'estate in anticipo. Temptation Island non andrà quindi in onda ad agosto. Il reality show, condotto da Filippo Bisciglia, culminerà in un doppio episodio speciale il 24 e 25 luglio. La trasmissione, che ha debuttato il 27 giugno alle 21 e 10, ha mantenuto alta l'attenzione dei telespettatori e si appresta a chiudere in grande stile con un doppio finale che promette emozioni e colpi di scena. La quinta puntata di Temptation Island quindi andrà in onda mercoledì 24 luglio. Seguita dalla sesta e ultima puntata il giorno successivo, giovedì 25 luglio, sempre in prima serata su Canale 5. Questo doppio appuntamento speciale è pensato per concludere con il botto un'edizione che sta appassionando il pubblico, offrendo un'ultima occasione per scoprire i destini delle coppie in gioco. Ma le novità non finiscono qui. Mediaset ha già pianificato una nuova edizione del reality per l'autunno. Dopo la conclusione dell'edizione estiva, il team di produzione si sposterà nuovamente in Sardegna a fine agosto per registrare nuove puntate. Ancora una volta, nuove coppie metteranno alla prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni con l'obiettivo di capire se il loro amore è destinato a durare. La messa in onda è prevista per l'autunno sempre su Canale 5. Questo vuol dire che se a fine luglio finirà tutto, l'autunno riporterà Temptation Island con nuove emozioni.